Buongiorno, buongiorno a tutte ragazze! Allora io sto mettendo il mio Coco Gold un po' dopo averlo agitato guardate le particelle d'oro 24 carati come nuotano nell'olio allora questo è perfetto la mattina prima di truccarci perché dona luminosità all'incarnato, come se mettessimo un po' di illuminante su tutto il viso e anche la sera come devi andare a letto perché è idratante l'oro 24 carati infatti ha proprietà anti-infiammatoria quindi leva un po' i rossori, le marchiudine così e rigenerante invece l'olio che contiene l'olio di mandorle, l'olio di coco che contiene va a nutrire è di idratare la pelle quindi perfetto, come base trucco e anche la sera se spendete 59 euro sul sito di Hello Body, quest'olio col codice ROSA GOLD lo riceverete in regalo Hello Body ci dovrà poco volete vedere il regalo di Enza? io non si dava mai se non facevamo questo regalo da da per contenere me la mia panzotta eccoci qua ragazzi indosso una 44 eh sì e sotto ovviamente i leggings coordinati per farci stare comodi adesso facciamo anche i capelli le capelli che sono indecenti adesso ci accendiamo per un bel trattamento con questi capelli che effettivamente vanno sistemati Enza vuole tagliarli lascia questa cosa ti denuncio ho fatto la brava mi ha tagliato solo il ciuffo è stata clemente solo perché sono incinta questa stronzetta adesso andiamo a mandare e anche oggi è anche vai amore vai no vicino al rosso bravi è sgonfio è sgonfio no si 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 no ma le scarpe no ma pallone si si distratta no ma le condizioni metterò logiche vabbè amore è meglio che la finisco qui questa storia perché non è molto eccola ecco l'orosa non ti faccio fare bella figura Iago Iago togli il pallone vai questa è una bella questa è l'inzalata che ha fatto effetto è l'inzalata allora io ho chiesto un cornetto e Pietro ha portato tre cornetti qui un altro qui ma soprattutto la busta del male è questa ragazzi io non so cosa sia tu lo vedo un bounty liquido un twix liquido shake ma che che roba no ma è male questo è veramente il male buongiorno amore auguri grazie amore auguri che cosa fai ho Finally tua la la le ciao ciao Bye!